A Giulianova è stata rimodulata in centro di accoglienza la sala polifunzionale Pioppi nel quartiere Annunziata, utilizzata fino a poco tempo fa come hub vaccinale. Una struttura messa a disposizione al fine di semplificare al massimo le procedure di accoglienza, qui infatti potranno essere sbrigate tutte le pratiche necessarie all'identificazione e registrazione delle famiglie ucraine, compreso le procedure sanitarie e l'assistenza alloggiativa. Il centro di Giulianova operativo tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 è stato individuato dalla protezione civile regionale insieme a quello allestito nel parco della scienza a Teramo. Le famiglie ucraine che sono arrivate sul territorio giuliese potranno effettuare il tampone e il vaccino, potranno avere il codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti per accedere ai servizi sanitari. In più hanno la possibilità di richiedere l'alloggio grazie alla sinergia tra federalberghi e protezione civile nazionale, si possono recare qui e fare la richiesta. Fino adesso a Giulianova, nell'ultimo mese, abbiamo accolto circa 25-26 famiglie, anzi abbiamo assistito grazie ai nostri servizi sociali, e alla Croce Rossa della protezione civile per un totale di un'ottantina di persone, moltissimi minori, che stiamo anche cercando di inserire adesso a scuola. Siamo in contatto con la prefettura appunto per definire anche questo ruolo di registrazione, poi c'è tutta la parte sanitaria che è nostra competenza. Questa è un'operazione voluta dal dottor Di Giosia e dal dottor Brucchi, insieme in collaborazione con il presidente Marsiglio. Visto anche che molti alberghi sono sulla costa che hanno dato disponibilità, si è pensato e hanno fortemente voluto questa riapertura. Vivo qui da 30 anni ma qui nessuno può rimanere senza dare una mano, perché la mano ci vuole, il popolo è distrutto, il paese è distrutto, ci vuole, ci vuole l'aiuto di tutti, non solo ucraini, anche italiani, tutto il mondo deve aiutare adesso l'Ucraina. C'è solidarietà pazzesca dalla parte degli ucraini che vivono qui, anche dalla parte degli italiani, che portano tutto quello che hanno a casa, hanno al negozio, tutto quanto, tutto quello che possono dare. Tanto, tanto spavento, mamma ha 76 anni e quindi anche il suono che suona, che deve scappare, la mette in angoscia, si sente male proprio fisicamente anche, mi sento a dovere. Quello che è uno minimo che può fare qualcosa, che tanto più di quello non si può fare, ecco, mandare soldi, aiutare chi ci sta qui.